Aumentano o non aumentano? Si forse non si sa. È scoppiato sui social nei giorni scorsi un vivace dibattito sulle tariffe delle corse urbane a Cremona, i bus della KPM per intenderci. Il comunicato ufficiale apparso sul sito della Società di Trasporto Pubblico lascia presagire consistenti incrementi a partire dal 9 agosto rispetto alle tariffe prospettate sullo stesso sito nella pagina dei titoli di viaggio urbani, ma in linea con le tariffe pubblicate nella pagina dei titoli di viaggio per l'area urbana e per l'area urbana integrata. Chi ci capisce è bravo e tanto è bastato perché su Facebook scoppiasse il putiferio, dai confronti impietosi per Cremona con le città vicine alle corse soppresse senza preavviso, dai bus che non si fermano e portoghesi che non pagano il biglietto, ad alimentare ulteriore confusione si sono giunte le festività ferragostane con la biglietteria di KPM chiusa e le tabaccherie ignare. L'ipotesi alla fine prevalente sui social è che in realtà non vi siano cambiamenti nel biglietto urbano, le nuove tariffe riguarderebbero solo l'area urbana comprendente anche i comuni limitrofi, ma è solo un'ipotesi che attende e conferma, per averla quale c'è parso giusto chiedere ai diretti interessati telefonando al numero di KPM indicato sul sito. Ci è stato risposto che i responsabili sono tutti in ferie, ma ci è stato promesso che saremmo stati richiamati. Stiamo ancora attendendo questa telefonata, noi siamo a disposizione per chiarire questa faccenda. La gente, gli utenti nello specifico, hanno diritto a un chiarimento, anche a Ferragosto.